No alla violenza sulle donne, l'impegno dell'Istituto Ferrari di Chiaravalle Centrale. Il 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, le classi prime e seconde hanno partecipato ad un innovativo laboratorio delle emozioni, guidato dalla dottoressa Caterina Gimigliano. Con l'organizzazione della professoressa Maria Quaranta e il coordinamento della professoressa Rossana Voci, l'evento ha promosso la riflessione e l'espressione creativa degli studenti, attraverso cartelloni, poesie, aforismi e videoclip. Questo laboratorio ha permesso agli studenti di esplorare le emozioni primarie, sviluppando maggiore consapevolezza e autocontrollo. La raccolta di parole chiave, simboleggiata in una bisacca metaforica, ha portato alla creazione dello slogan «Penso, ci vivo, divento», un mantra che incarna il cambiamento e la crescita personale. Queste iniziative evidenziano il ruolo attivo dell'Istituto Enzo Ferrari nella promozione della consapevolezza e del cambiamento sociale. La direzione dell'Istituto, insieme ad agenti e studenti, dimostra un impegno costante non solo nell'ambito educativo, ma anche nel tessuto sociale, contribuendo alla creazione di una cultura di sensibilità e rispetto. Sentiamo l'intervista di Anna Maria Colabraro. Is Ferrari di Chiaravalle Centrale. Si è concluso da poco il laboratorio di emozioni per contrastare la violenza sulle donne. A condurlo è stata la dottoressa Caterina Gimigliano, che si è relazionata con i ragazzi delle classi prime e hanno parlato di violenza. Dottoressa, com'è stata questa esperienza e cosa ha riscontrato nei nostri ragazzi? Anna Maria, allora grazie per avermi coinvolta in questo momento di riflessione con te. Guarda, la mattinata lì a scuola è stato un momento molto bello di organizzazione. La metodologia che io ho proposto questa mattina è quella di creare uno spazio di riflessione con i ragazzi, descrivere il fenomeno in sé, senza affiancarlo, della possibilità di far conoscere ai ragazzi quali strumenti acquisire per fronteggiare alcune tematiche. La violenza sulle donne, diciamo, si erige anche sulla difficoltà dei ragazzi a gestire le emozioni, più che a gestire anche a identificarle, elaborarle. Per cui noi, in questo spazio così costruttivo, abbiamo fatto pensare ragazzi sui vari strumenti, quindi pensiero critico, la gestione dei conflitti, la comunicazione, la capacità di ascolto, tutti strumenti necessari per farli padroneggiare. Per cui simbolicamente abbiamo creato una bisaccia e dentro questa bisaccia mettere appunto tutti questi attrezzi in modo tale che loro possano nel loro futuro utilizzarle. La sua impressione da psicologa, i ragazzi hanno letto riflessioni, poesie, hanno realizzato dei cartelloni e sapere che ci sono ragazze vicine anche alla loro età che vengono uccise da quelli che erano ex fidanzati. Cosa hanno provato, cosa hanno manifestato questi giovani? Allora, intanto questi giovani nella presa di coscienza di tutti questi eventi così strazianti e dolorosi hanno manifestato tanta tristezza e anche tanta paura, la paura che questo fenomeno possa estendersi in futuro e quindi creare quella realtà che non aiuta a sviluppare desideri e fantasie nei ragazzi per una progettualità futura. Mi rendo conto che bisogna creare sempre di più spazi di ascolto per i ragazzi. Ascoltare i ragazzi non è mai abbastanza e soprattutto all'interno delle scuole sviluppare attività che vadano a nutrire il pensiero critico perché questi elementi un po' mancano. La mattinata comunque che ci ha visto insieme in questo spazio costruttivo ha permesso ai ragazzi anche di creare uno slogan lasciarci con un pensiero che sia di buon ospicio per il futuro e lo slogan che abbiamo creato è stato quello di Penso, Vivo, Divento. Tutto contro appunto queste sfumature rosse che cominciano a preoccupare veramente i ragazzi. Grazie. Grazie.